Svolta nelle indagini per la sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Biceglie, nella giornata di ieri infatti si è costituito Mauro Dell'Orco, il 24enne che avrebbe materialmente sparato verso il 25enne Matteo De Gennaro, al termine di una discussione avvenuta poco prima nei pressi di alcune giostre. I carabinieri di Biceglie hanno ritrovato l'arma del delitto e sembra che i due giovani si conoscessero e ci fossero già dei vecchi rancori per motivi personali. Le indagini sono coordinate dal magistrato della procura di Trani, Alessandro Pesce. Sono cominciate invece questa mattina le operazioni di accertamento per la morte celebrale del 25enne Matteo De Gennaro, operato alla testa nell'ospedale Bonumbo di Andria dopo che uno dei colpi di pistura lo aveva raggiunto proprio al volto. Le condizioni del giovane erano state dichiarate sin da subito gravissime ed in mattinata si era già sparsa la voce di un suo decesso. I medici riferiscono dall'aslo e seguendo ulteriori accertamenti infatti hanno registrato la presenza di un lieve flusso cerebrale nel giovane.